Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. I lavori per la nuova piazza Pia, da domani il via ufficiale al cantiere nell'area tra Castel Sant'Angelo e via della conciliazione. Un cantiere che richiederà nuove modifiche della viabilità per il traffico in arrivo dal Lungotevere diretto verso piazza Pia dopo i primi cambiamenti scattati il 10 agosto in alcune strade di Prati. Da domani scatteranno anche le deviazioni di 7 linee bus 23, 40, 62, 280, 982, N3D e N3S. Tra le modifiche la linea 40 in partenza dal capolinea di Borgo Sant'Angelo proseguirà per via della Traspontina, mentre la linea 62 effettuerà il capolinea alla stazione San Pietro. Saranno disattivate due fermate in via della Traspontina e una fermata ciascuna in piazza Pia e in via Sforza Pallavicini. Intanto in Prati, tra Viale Giulio Cesare e via Cola di Rienzo, è cambiato il senso di marcia in via Duilio, via Attilio Regolo e via Fabio Massimo. Sulle strade tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio è invertito il senso di marcia su via Terenzio e via Virgilio. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.